Io quando penso a un film mi viene spontaneo pensare alle immagini. Quando io scrivo, siccome vengo dall'arte figurativa, già quando scrivo vedo le immagini. Per cui io avevo bisogno, e ne ho parlato con Tommaso Borgesrom, che è il direttore della fotografia, che è un vaglione straordinario, secondo me, di avere delle pareti scure. Io volevo delle carni, delle facce, dei primi piani, delle pelli, delle robe che si muovessero nel buio. E di tanto in tanto dal buio dovevano venire fuori degli ori e i soli colori che si potessero assumere nel film venivano da questi quadri, questi colori sporchi, questi colori violenti, di questi ipotetici carcerati. Per cui era tutto bianco, nero, oro ogni tanto e qualche babbaglio di colore, ma appena appena, appena appena. Per cui avevo detto facciamo le pareti grigio scuro, facciamo questo pavimento rosso, che per me poteva essere una cosa di sangue a terra, però lo dico così, no? Poi è un pavimento di cotto. E poi con degli ori e con delle cose che appena appena balugginano da questi fondi bui. infatti a Tommaso dico sempre Tommaso ma siamo sempre nel buio, abbiamo sempre il buio alle spalle dei personaggi.